Torneria Oliva, efficienza industriale, qualità artigianale. La nostra azienda nasce nel 1958 dall'esperienza maturata dal suo fondatore Enrico Oliva nei settori della meccanica degli strumenti di bordo e in quella delle macchine movimento terra. Il nostro sviluppo è continuato senza abbandonare la tradizione artigianale, mantenendo un rapporto di collaborazione e sviluppo del prodotto con la clientela. Oggi ci occupiamo anche della carpenteria, rubinetteria e meccanica in generale.